Buonasera, sono Juan Carlos de Martin, sono docente del Politecnico di Torino. Questo è l'incontro in cui siamo abbastanza emozionati perché è il primo incontro che facciamo qui nella sede della Treccanina, in questa bellissima Sarigea, di questa sequenza di lezioni intitolata Guerra e Pace, in un'iniziativa chiamata Tempi difficili, originariamente pensata nel 2021 dal Politecnico di Torino e da Biennale Tecnologia in particolare per riflettere sulla pandemia. All'epoca eravamo tutti in confinamento per cui tutto online e trovate ancora adesso quelle belle lezioni dedicate a cercare di capire cosa stava capitando in quel momento così drammatico. Ora non siamo più in confinamento, abbiamo il piacere di essere in presenza e abbiamo voluto insieme all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani di ragionare su un altro momento e un altro tema drammatico che è appunto quello della guerra e della pace. E siamo molto contenti di farlo, questo primo incontro a Roma, ce ne saranno poi anche altri, con Matteo Nucci che è un amico di Biennale Tecnologia, di Biennale Democrazia e della Treccani e quindi con grandissimo piacere passo il microfono a lui. Grazie. Grazie, grazie di questo invito in questo luogo meraviglioso, veramente. E sono io molto emozionato nel parlare di guerra, pace, temi attuali, purtroppo sempre attuali, a partire dagli esempi più antichi di letteratura. Una premessa però, perché in questi ultimi anni escono molti libri in cui si cerca di dare una risposta all'attualità attraverso la letteratura antica. Ci sono questi libri che riprendono gli antichi come se fossero dei manuali di aiuto per i nostri tempi e attualizzandoli. Ecco, io credo che non debbano essere attualizzati gli antichi e che non siano manuali di aiuto. Sono semplicemente dei grandi testi, delle grandi prove letterarie in cui quello che gli esseri umani sempre vivono è stato raccontato in maniera cristallina, eccezionale, molto chiara. Ecco, e quindi sono in qualche modo paradigmatici, ma non vanno né attualizzati né sono dei manuali di cura come va di moda oggi. Ecco, basta leggere e rileggere gli antichi per trovare non delle risposte, ma semmai delle domande, che è molto più importante oggi trovare domande piuttosto che risposte, perché mi pare che le risposte le abbiano in tanti. Io parlerò, cercherò di raccontare questi temi partendo dal testo più antico della nostra letteratura. Per molti è il più antico, perché i più antichi sono certamente Iliade e Odissea, e per molti è considerato il più antico dell'Odissea il poema intitolato L'Iliade, dedicato alle gesta di Achille. È impossibile dire quale fosse il poema più antico, ormai lo sappiamo con chiarezza, perché i poemi furono composti oralmente in un periodo in cui non esisteva la scrittura e furono l'esito di una composizione stratificata, quindi non c'è un poema che è stato scritto prima e un altro che è stato scritto dopo. Però è affascinante l'idea che poi è stata sostenuta fin dall'antichità e in particolare da un grande critico dell'antichità di cui non sappiamo il nome e che per questo è famoso come Anonimo del Sublime, perché scrisse un'opera di critica letteraria dedicata appunto al sublime, all'idea del sublime. Ecco, nel suo testo l'Anonimo del Sublime, nel primo secolo dopo Cristo, sostiene che l'Omero, di cui poi oggi ci interroghiamo se addirittura si è esistito o meno, ecco. Ma insomma, secondo l'Anonimo, l'Omero che scrisse l'Iliade era un Omero più giovane, mentre l'Omero che scrisse l'Odissea era un Omero più maturo, più anziano, più disincantato. L'Omero dell'Iliade è un Omero in cui bruciano le passioni e l'Omero dell'Odissea è un uomo più maturo, che pensa appunto al ritorno a casa, eccetera, è tutto quello che sappiamo. È una bellissima lettura, appunto, non fondata sulla realtà, ma bella e che comunque è diventata canonica, perché ovunque voi leggiate dei poemi omerici troverete sempre prima l'Iliade e poi l'Odissea, anche perché prima viene, diciamo, la guerra a Troia e poi il ritorno da Troia. Ma insomma, a me interessava partire da quest'idea molto così bella dell'Anonimo del Sublime per eliminare una serie di fraintendimenti, il primo dei quali ha a che fare con l'Ira. Ecco, l'Anonimo del Sublime sottolinea il fatto che l'Omero che scrive, che compone, quindi l'Odissea, l'Iliade è un Omero giovane pieno di, in cui ribolle, diciamo, la passione che i Greci identificavano in una parte dell'animo molto particolare chiamata fiumos, ovvero sia qui nei polmoni, dove è sede dell'ira, della dignità, del coraggio, insomma, la parte che ancora possiamo sentirla noi quando siamo pieni di passionalità e di ira, appunto, di bisogno di dignità, ecco, la sentiamo qua ribollire nei polmoni. Ecco, per questo Omero in cui ribolle il fiumos e la sua dignità, il suo bisogno di onore e di gloria, è l'Omero che scrive dell'Achille iracondo. E infatti tutti sappiamo che l'Iliade si apre con l'ira di Achille, Ma questo fatto che si apra con l'ira di Achille ci ha spesso messo in crisi, perché ci ha spesso spinti a pensare a Achille come un eroe che è caratterizzato dall'ira. Tant'è che alcuni scrittori, in particolare una scrittrice, hanno definito Achille una bestia, un mostro, perché è l'uomo dell'ira, di questa passione nefasta. A parte il fatto che l'ira non sempre è nefasta, non sempre è orrenda, ma certamente Achille non è una bestia, non è un mostro, e lo vedremo, ma soprattutto Achille non è affatto caratterizzato dall'ira. Tutti gli eroi omerici, indistintamente, sono caratterizzati dall'eccedere in questa parte dell'animo, in questa parte che l'anonimo del sublime sosteneva fosse particolarmente forte nell'omero giovane, nel tiumos, nel bisogno di dignità, di gloria, di riconoscimento, nel coraggio che porta spesso all'ira. Non è solo Achille l'eroe dell'ira. E questo lo capiremo, credo, molto chiaramente durante questa nostra chiacchierata. E certo che quando noi pensiamo a Achille, contrapponendolo all'eroe che è suo compagno, amico, amatissimo, ovvero sia Patroclo, vediamo, insomma, tendiamo a vedere in Achille l'eroe, diciamo così, feroce, e in Patroclo invece l'eroe dolce, sensibile, empatico. Molti considerano Patroclo l'eroe moderno, l'uomo più vicino ai nostri tempi. Bene, no, anche questo è un fraintendimento totale dell'Iliade, basta leggere l'Iliade per capire che le cose non stanno così. Certo che Omero, o i cantori omerici, diciamo meglio, ci inducono in tentazione, ci spingono a pensare che appunto che Achille sia l'uomo più iracondo e Patroclo sia l'uomo invece più dolce, più propenso alla comprensione e all'empatia. E ci spingono a pensarlo soprattutto perché in alcune scene famosissime, magnifiche dell'Iliade, tutto questo è molto chiaro. E proprio perché è chiaro, io cercherò di leggerlo insieme a voi, di capirlo e di mettere in crisi invece questa certezza che Patroclo sia dolce e Achille duro. E partirei proprio dal libro che è il libro più importante per capire la figura di Patroclo, che è poi il libro in cui Patroclo muore. Un libro meraviglioso in cui tutti noi, amanti, malati, di Omero, quando lo leggiamo, speriamo che Patroclo non muoia, anche se sappiamo che morirà. Siamo terribilmente ansiosi di scoprire che questa volta non morirà e farà quello che gli ha raccomandato di fare Achille, ma purtroppo il poema va sempre nello stesso modo. Dico purtroppo per modo di dire è la bellezza delle grandi opere letterarie che ogni volta che le leggi speri che qualcosa possa cambiare. è una magia della letteratura, ma è importante sottolinearla. Allora, è il libro sedicesimo dell'Iliade. I troiani sono arrivati quasi alle navi degli Achei. L'avanzata ha portato a distruzione. Stanno quasi per dar fuoco alle navi dei Greci che a quel punto non potrebbero neanche più tornare in patria. È l'esito della lite fra Achille e Agamennone. Achille all'inizio, appunto, l'ira di Achille consiste sostanzialmente questa rabbia enorme contro il capo della spedizione che gli nega una certa... Adesso non entriamo in particolari, ma penso che molti di voi l'abbiano, conoscono molto bene l'inizio dell'Iliade. A quel punto Achille si ritira dalla battaglia e Zeus dà ai troiani campo libero per dimostrare che senza Achille gli Achei sono perduti e che Agamennone ha sbagliato a maltrattare e insultare l'eroe più forte fra gli Achei. Quindi i troiani sono quasi arrivati a dar fuoco alle navi e Patroclo, che appunto segue insieme a Achille, ma in questo momento da solo la scena, è terribilmente afflitto da quello che sta per capitare. E così si apre il libro. Così combattevano quelli alla nave dai solidi banchi. S'accostava Patroclo, allora, ad Achille, pastore di genti, versando lacrime calde come fonte di scura corrente che cupo versa il suo fiotto giù da roccia scoscesa. È una scena bellissima di Patroclo che arriva in lacrime, che piange calde lacrime perché è afflitto dalla situazione, vuole cercare di convincere Achille a cambiare idea, a rientrare in battaglia o a dare a lui la possibilità di entrare in battaglia e difendere le navi degli Achei. E Achille, di fronte a questo Patroclo piangente, è duro, durissimo, spietato, gli risponde in maniera distruttiva, anzi, quasi strafottente. Perché Patroclo piangi come bambina piccola che correndo dietro alla madre vuole che la prenda in braccio e le saggrappa al vestito e mentre affretta l'austacola e continua a guardarla piangendo fin quando non la sollevi, proprio come lei, Patroclo, versi tenere lacrime? Beh, insomma, è durissimo. Achille e noi che conosciamo sia l'Iliade che l'Odissea e sappiamo quanto poi gli eroi piangano, quanto abbia pianto Achille nel momento iniziale del poema, dopo l'ira, chiamando la mamma che lo viene a carezzare. Sappiamo quanto piangerà poi, insomma, restiamo un po' stupiti. E del resto Patroclo non è l'amico, l'amato, il compagno di Achille per tacere le sue idee, i suoi pensieri. Quindi gli risponde in una maniera molto dura a questo atteggiamento così strafottente. Patroclo risponde in maniera molto dura e molto bella e potente. Che mai mi prenda simile ira quale tu nutri nel tuo sciagurato valore. Chi avrà vantaggio da te sia pure tra i posteri se dagli Achei non stornerai la strage tremenda, spietato. Non fu tuo padre Peleo Cavaliere né tua madre fu Teti. T'ha generato il mare scintillante con le rocce scoscese tanto è duro il tuo cuore. Se poi temi in cuor tuo l'avvertimento di un Dio e te ne ha dato uno la madre divina da parte di Zeus, almeno me manda al più presto e dammi tutto l'esercito dei mirmidoni semmai fossi luce agli Achei. Concedimi anche le tue armi che le indossi sulle mie spalle semmai scambiandomi per te si ritirassero dall'assalto i troiani e i prodi figli degli Achei riprendessero fiato dai colpi. In guerra basta poco a riprendere fiato. Facilmente, freschi di forze, ricacceremmo in città via dalle navi e dalle tende uomini stanchi per la battaglia. Vedete con che forza Patroclo risponde a Achille addirittura alludendo a un timore di Achille. Gli ha detto tu forse hai paura di quello che ti ha suggerito tua madre ovvero sia che la tua vita sarà breve beh, allora lascia entrare me in battaglia. È un'allusione durissima fra guerrieri dare qualche modo del codardo del pauroso a Achille. È tale la forza e la potenza di questa risposta che Achille appunto cambia idea. E cambia idea come fanno gli uomini quando insomma vogliono cambiare idea però vogliono dar da pensare che in realtà l'avevano già cambiata che non è merito del loro interlocutore se cambiano idea. E infatti gli risponde tra le altre cose così ma lasciamo correre ormai non era certo possibile crucciarsi in eterno nell'animo avevo pur detto che avrei smesso dall'ira non prima ma quando il grido di guerra fosse giunto alle mie navi. dice insomma sostanzialmente sì l'ira di cui mi rimproveri l'avevo detto pure io già che insomma avrei abbandonato quel sentimento perché l'ira di Achille dal momento iniziale in cui si trattava di un'ira produttiva fertile è diventato un rancore sordo cattivo. Ecco. E quindi insomma accoglie la richiesta di Patroclo sembra appunto come ho detto dire sì ci avevo già pensato io tranquillo e poi però chiede a Patroclo di comportarsi in una maniera molto particolare e qui sta la grandezza di tutta l'Iliade in generale ma di questo libro in particolare che è una meraviglia assoluta perché Achille ha paura che Patroclo vada in battaglia e sia preso dalla voglia di strafare ma insomma non anticipo nulla e lascio la parola a Achille comunque tu Patroclo slanciati pure con impeto per salvare le navi dalla rovina che fuoco ardente non appicchino ai legni precludendo l'amato ritorno rispetta però il fine ultimo delle mie parole che tu possa ridarmi onore onore e gloria da parte di tutti gli Achei e mi rimandino indietro la fanciulla bellissima aggiungendo splendidi doni ricacciato il nemico dalle navi torna indietro se anche ti concede vittoria lo sposo tonante di Hera non insistere senza di me a fare la guerra ai troiani bellicosi mi renderesti ancora più privo di onore non accada che tu ebro di guerra e battaglia scannando troiani conduca l'esercito adilio che non venga in campo contro di te dall'olimpo qualcuno degli dei sempiterni Apollo saettatore molto li ama dunque torna indietro quando tu abbia portato alle navi un barlume di luce lascia che si combattano sulla pianura magari Zeus padre e Atena e Apollo nessuno dei troiani sfuggisse alla morte quanti ne sono nessuno neanche tra i danai e scampassimo invece noi due per aprire da soli il velo sacro di Troia cosa dice qui Achille a Patroclo sembra che Achille voglia dirgli voglia dirgli guarda se tu poi vieni preso dalla dalla battaglia dalla furia della battaglia e vai fino a Troia e prendi Troia fai qualcosa di male al mio onore perché sono io che devo prendere Troia si lo dice in realtà dice anche che gli piacerebbe prendere Troia assieme a Patroclo in realtà Achille sa anche che lui probabilmente Troia non la prenderà mai ma quello che è più importante tra queste righe e lo vedremo tra poco è che Achille in realtà teme che Patroclo venga preso da quella che qui il traduttore Giovanni Cerri chiama l'ebbrezza della guerra e della battaglia il verbo greco è un verbo che richiama più che altro un godimento che porta alla superbia alla superbia e a una specie di esultanza eccessiva è quel carattere che i greci chiamano diciamo così la iubris ne avrete sicuramente memoria insomma andare oltre la misura umana che poi viene punito dagli dèi quando si va in guerra Achille lo sa bene si finisce spessissimo per essere presi da questa specie di appunto ebbrezza della guerra si finisce per superare la misura per perdere i limiti il senso del limite e si finisce per andare incontro alla morte è quello che qualcosa che la guerra suscita molto facilmente l'Iliade lo racconta in maniera superba ma è chiaramente è quello che capiterà a Patroclo e poiché Omero non è uno scrittore tra virgolette legato alla suspense come oggi bisogna sempre riservare qualcosa che il lettore o l'ascoltatore non sappia o l'osservatore non sappia bisogna sempre puntare sulla suspense Omero che invece è un grande letterato non gliene frega niente della suspense giustamente anticipa tutto e ci fa capire subito che invece Patroclo quella misura la supererà e ce lo fa capire in una maniera bellissima ma veramente letterariamente meravigliosa perché che succede Patroclo viene mandato a vestire le armi di Achille prepara le truppe chiama i mirmidoni per andare sul campo di battaglia e intanto intanto Achille fa una cosa e fa una cosa che beh taccio la leggo meraviglia assoluta intanto Achille entrò nella tenda tolse il coperchio alla cassa bella ben lavorata che Teti dal piede d'argento gli aveva dato a portare sulla nave tutta piena di chitoni di mantelli a vento e di tappeti lanosi lì teneva una coppa bellissima e nessun altro né tra gli uomini poteva berci vino scintillante né libarci a qualsiasi dio tranne che a Zeus la tirò la tirò fuori dalla cassa la lucidò per prima cosa con lo zulfo poi la sciacquò con la pura corrente dell'acqua si lavò egli stesso le mani e attinse vino scintillante quindi pregava ritto in mezzo al cortile e li bava il vino con gli occhi rivolti al cielo e lo vide Zeus che gode del fulmine Zeus sovrano dodoneo pelasgico tu che abiti lontano e regni sulla fredda dodona con te vivono i selli profeti dai piedi sporchi che dormono in terra come già prima ascoltasti la mia parola di preghiera facendomi onore e duramente colpisti l'esercito degli Achei così ancora di nuovo esaudisci questo mio voto io resterò nel campo navale manderò tuttavia il mio compagno con molti mirmidoni alla battaglia dagli Zeus tonante la gloria ispiragli audacia nel petto che anche Ettore sappia se il mio scudiero è capace di battersi pure da solo o solo allora le sue mani invincibili impazzano se vado anch'io alla mischia di Ares ma quando abbia respinto via dalle navi la battaglia e lo strepito torni in colume poi alle nostre navi con tutte le armi e i prodi compagni così diceva pregando lo ascoltò Zeus sapiente ma delle due cose il padre divino l'una concesse e l'altra negò che patroclo ricacciasse dalle navi la guerra e l'assalto glielo concesse ma non che tornasse in colume dalla battaglia dopo aver libato e pregato il padre Zeus rientrò nella tenda ripose la coppa dentro la cassa poi si mise davanti alla tenda perché voleva vedere di nuovo la battaglia crudele di Troiani e Achei vedete che è chiaro già che patroclo si sapeva già da prima ma insomma qui è definitivamente chiaro che patroclo non tornerà vivo alla tenda di Achille l'ha deciso Zeus qui è la grande questione dei poemi numerici dell'antichità dell'intervento divino in realtà sì possiamo discutere quanto vogliamo sul fatto c'è chi pensa che gli dei davvero intervengano c'è chi pensa che insomma siano più che altro una proiezione umana e quindi raccontino tensioni umane ma insomma è una questione che resterà sempre aperta i critici continueranno a sfidarsi il punto è che qui è patroclo che purtroppo sbaglia e purtroppo fa quello che gli ha raccomandato proprio di non fare Achille ovvero sia si lascia prendere dall'ebbrezza della battaglia e della guerra il racconto di questo libro è un racconto di morti su morti di ferocia di sbudellamenti l'Eliade è molto minuziosa nel raccontare gli omicidi e la guerra e è un racconto in cui patroclo diventa una furia diventa una belva diventa cattivo contro chi uccide a un certo punto prende in giro un ragazzo che ha appena ucciso lo tratta in una maniera orribile patroclo il dolce patroclo è diventato quello che Achille temeva ovvero sia l'uomo pieno di ira che è in guerra diventa una belva che viene preso dall'ebbrezza della battaglia e diventa privo di qualsiasi tipo di pietà l'immagine di patroclo che prende in giro il ragazzo morto è terribile non la leggo leggo invece quello che di nuovo sembrano dire gli dei circa gli umani ovvero sia circa l'atteggiamento di patroclo patroclo intanto spronati i cavalli ed automedonte inseguiva lisci e troiani folle fu accecato davvero se avesse invece ascoltato il consiglio del figlio di Peleo avrebbe evitato il destino maligno della morte nera ma la mente di Zeus è sempre più forte di quella degli uomini incute paura anche in un prode e senza fatica gli strappa la vittoria altra volta lui stesso lo spinge a combattere vedete che insomma il giudizio è chiaro è patroclo che sbaglia ma forse sono gli dei che lo fanno sbagliare di nuovo questa alternativa la lasciamo perdere è certamente patroclo che è stato preso da questa che Cerri ha tradotto ebrizza secondo me molto bene ebrizza questo godimento assurdo crudele della guerra che purtroppo è un godimento appunto metastorico che è quello che accade sempre tutto questo porta patroclo alla morte sappiamo che verrà ucciso da Ettore in realtà patroclo prima del colpo decisivo con cui Ettore lo uccise viene con cui Ettore lo uccide viene colpito da Apollo e poi da un guerriero che si chiama Euforbo ma insomma chi gli dà definitivamente la morte è Ettore e nel momento in cui patroclo muore Ettore gli dice questo per sottolineare in maniera molto complessa ma letterariamente di nuovo divina come patroclo abbia sbagliato a non seguire il consiglio di Achille perché Ettore gli dice così Ettore non sa nulla di quello che Achille aveva suggerito a patroclo ma gli dice proprio il contrario gli dice così misero non ti è stato d'aiuto Achille per quanto valente lui che restando inattivo dava ordini a te che partivi non tornare anzitempo patroclo provetto cavaliere alle navi ricurve prima d'aver trafitto sul petto detto remassacratore il suo chitone sanguinante così certo ti disse e a te stolto persuase la mente dice esattamente il contrario di quello che in realtà è accaduto Achille ha detto tutt'altro al suo amico ma il suo amico non è riuscito a placare questo senso di onnipotenza che ci stravolge la mente qui con la morte di patroclo però cambia completamente il poema cambia radicalmente e in genere diciamo i lettori critici sostengono che dal poema dell'ira si passi al poema della morte come se da questo momento in poi non ci fosse più ira e come se prima non ci fosse stata la morte non è propriamente così in realtà c'è un cambiamento diverso che di nuovo è molto spesso sottovalutato spessissimo frainteso e che è il grandissimo cambiamento invece di Achille la trasformazione di Achille da questo punto in poi l'Iliade se vogliamo a me non piace l'ho già detto aprendo questo nostro incontro non mi piace dire che parlare di modernità degli antichi però certamente qui l'Iliade se non altro è molto più vicina alla nostra sensibilità al nostro modo di leggere di ascoltare queste storie perché siamo più abituati alle trasformazioni degli esseri umani ci interessa la trasformazione dell'essere umano e qui sicuramente Achille comincia a trasformarsi in maniera unica e seguiamo velocemente questa trasformazione perché io vi consiglio davvero di se non l'avete fatto recentemente di rileggere se non altro questi passi perché sono passi molto noti ma insomma non si smette mai di rileggerli Achille viene preso da un dolore tremendo lo sappiamo si butta per terra si strappa i capelli quando sa che Patroclo è morto vorrebbe uccidersi vorrebbe morire un'esplosione di dolore mostruosa a quel punto vuole solo vendicarsi lì che diventa una belva si diventa una belva ma non non credete non diventerà mai una belva né come Patroclo è stato strafottente cattivo contro il ragazzo che moriva né come Odissio che di solito è considerato invece l'eroe meno crudele che invece quando si vendica contro i pretendenti è di una crudeltà atroce però comunque è veramente una vendetta mostruosa sappiamo tutti che quando ha ucciso Ettore Achille in fila tra i tennini che noi chiamiamo di Achille una una corda per legare Ettore ai cavalli e sfigurarne il cadavere placata la sua sete di vendetta finalmente Achille si calma e inizia a cambiare inizia a fare quel percorso e noi chiamiamo il percorso di elaborazione del lutto diciamo all'inizio Achille non vuole mangiare e non vuole bere Odissio lo prega tutti cercano di convincerlo a mangiare e bere lui non vuole che il pasto odioso non passerà attraverso la mia gola dice e non mangia e non beve sono gli dèi che lo nutrono di Nettare e Ambrosia perché se no crollerebbe sul campo ma è sostenuto sostanzialmente dalla sua ira dal suo bisogno di vendetta placata appunto come dicevo la voglia di bisogno di vendetta finalmente mangia e beve dice mangerò quello che dice parla proprio dell'odioso banchetto nel momento in cui comunque accetta di mangiare ma insomma dopo aver mangiato e bevuto Achille finalmente dorme e mentre dorme sogna quando lo prese il sonno sciogliendo le pene del cuore avvolgendolo dolcemente molto aveva stancato le belle le belle membra mentre inseguiva Ettore verso Ilio Ventosa gli apparve l'ombra del povero Patroclo somigliante a lui in ogni cosa statura begli occhi voce e indossava gli stessi vestiti gli stette sospeso sopra la testa e prese a parlargli tu dormi ma dimetti dimentichi Achille non ti scordavi di me quando ero vivo ma da morto mi scordi dammi sepoltura al più presto che ovarchi la porta dell'Ade mi respingono indietro le altre anime le ombre dei morti non mi permettono ancora di unirmi loro oltre il fiume ma in vano mi aggiro davanti all'ampio portale della casa di Ade su dammi la mano ti prego mai più nel futuro tornerò dall'Ade quando m'avrete onorato col fuoco mai più vivi appartandoci dai nostri compagni staremo insieme a discutere piani mi ha ghermito ormai la morte odiosa che già quando nacqui mi ebbe in balia è destino anche per te Achille simile a un dio cadere sotto le mura dei ricchi troiani ma un'altra cosa ti dico e ti chiedo se vuoi darmi retta le mie ossa non mettere Achille divise dalle tue mettile insieme come insieme siamo cresciuti nella vostra casa poiché Menezio mi portò ancora piccolo a casa vostra da opunte per un disgraziato omicidio il giorno in cui ammazzai sconsiderato il figlio d'Anfidamante senza volerlo per una lite al gioco dei dadi Peleo cavaliere m'accolse allora nella sua casa mi allevò con amore mi nominò tuo scudiero perciò la stessa urna accolga anche le nostre ossa l'anfora d'oro che la tua madre divina t'ha dato a lui di rimando diceva Achille dal piede veloce perché tu persona a me tanto cara vieni qui a darmi tutte queste istruzioni certo che io tutto quanto farò per te mi comporterò come desideri ma avvicinati a me almeno un istante abbracciati gustiamo il piacere del pianto amaro detto così protese le braccia ma non lo strinse come fumo l'anima sottoterra se ne scendeva stridendo Achille si svegliò stupito batte le mani l'una contro l'altra e disse accorato ahimè dunque c'è pure a casa di Ade un'anima e una parvenza ma non c'è dentro la vita per tutta la notte l'anima del povero patroclo ha volteggiato sopra di me tra pianti e lamenti mi ha comandato cosa per cosa in tutto simile a lui disse così e in tutti destò desiderio di pianta evidentemente non ci sono parole per raccontare questo sogno e diciamo che molti hanno cercato di interpretarlo in tanti modi ma io non credo che si debba dare un'interpretazione tra virgolette moderna di questo sogno penso che valga quel modo che dà quella specie di paradigma per interpretare i sogni che dà Penelope nell'Odissea perché è Penelope appunto una donna visto che adesso spesso si rileggono e si riscrivono i poemi omerici dalla prospettiva delle donne perché sono troppo poco raccontate in realtà nei poemi omerici le donne hanno un posto importantissimo Elena nell'Iliade ma anche nell'Odissea e Penelope certamente nell'Odissea e hanno a loro riservata una sapienza che gli uomini non hanno nella fattispecie Penelope quella che sa dire come probabilmente i sogni debbano essere interpretati non entro in quella discussione ma in sostanza Penelope dice che i sogni escono da due porte una è la porta di corno e una è la porta d'avorio dalla porta di corno escono i sogni che dicono il vero dalla porta d'avorio escono i sogni che dicono il falso e qui già gli antichi le vedevano nel corno l'occhio e nell'avorio i denti quindi lo sguardo e la parola la chiacchiera diciamo quindi il sogno che ci spinge a guardare dentro di noi ci spinge a vedere la verità il sogno su cui vogliamo chiacchierare e vogliamo raccontare e vogliamo quello ci spinge al falso quindi direi di far prevalere l'occhio l'occhio di Achille è l'occhio che guarda dentro se stesso il patroclo che Achille vede in sogno è lui stesso è lui stesso che parla a se stesso e chiede e chiede di fare qualcosa per patroclo ma cosa deve fare deve vivere deve appunto dare a patroclo la terra il fuoco e poi la terra e quindi poi lui tornare alla vita è un sogno che spinge Achille a tornare alla vita e non è un caso che poco dopo Achille dopo le esequie indica dei giochi funebri in onore di patroclo è un primo racconto letterario di una manifestazione che noi chiamiamo sportiva che ci spiega come lo sport nasca come diciamo un agone per superare per vincere la morte ma quindi insomma c'è poco da attualizzare oggi ma lasciamo perdere questo la cosa eccezionale di questi giochi in onore di patroclo è che tra le tante competizioni ce n'è una raccontata in maniera molto distesa e molto particolare che è la gara dei carri in questa gara dei carri emerge una figura molto molto unica una figura unica che è un giovane ben più giovane di Achille che Achille ha molto caro che è un figlio di Nestore il re di Pilo per lo conneso il saggio il più vecchio e più saggio tra i capi e questo antilogo è un giovane appunto dove ribolle veramente la passione del Fiumos e questo antilogo ha cavalli pessimi però il padre gli dà abili consigli si dà tutto inganna in piccia in broglia per fare la gara migliore che può fare e riesce ad arrivare secondo facendo anche un sacco di cose che non avrebbe dovuto fare ma questo non importa dà veramente tutto per avere il secondo posto e nel momento in cui deve essere premiato però Achille dice sì tu sei arrivato secondo però c'è un altro eroe molto forte nella guida dei carri che è stato ostacolato dagli dèi è stato messo in crisi dalla sorte si chiama Eumelo darò a lui i tuoi premi e Antilogo si incavola come una bestia a Achille che sta celebrando diciamo queste gare per il suo amico morto beh Achille Antilogo dice non puoi comportarti così non si fa così io voglio i miei premi tu sei pieno di ricchezze Eumelo dagli qualcos'altro lo tratta da pari a pari non ha rispetto diciamo di questa situazione di dolore e questo spinge Achille alla vita vera perché i poeti lo raccontano in una maniera straordinaria che adesso vi leggo vi leggo anche quello che dice Antilogo se no io mi sono lasciato prendere perché mi fa impazzire Antilogo ma se no non è meglio che leggo come era Achille mi irriterò molto con te se farai davvero quello che hai detto vuoi sottrarmi il mio premio lo vuoi fare con l'idea che il suo carro i veloci carri e i veloci cavalli hanno avuto sfortuna mentre lui era bravo ma perché non ha pregato gli dèi non sarebbe giunto allora ultimissimo in gara ma se ne hai pietà tuttavia ed è caro al tuo cuore molto oro si trova nella tua tenda vi si trova bronzo bestiame ci sono ancelle e cavalli prendendone di lì gli darai un premio anche maggiore oppure anche subito perché gli Achei ti applaudano ma io non cederò la cavalla il mio premio per lei si cimenti chiunque fra gli uomini voglia venire con me alle mani così disse e Achille divino dal piede veloce sorrise Achille è tornato al sorriso si è trasformato profondamente vi anticipo che poi Antiloco prenderà nel cuore di Achille il posto di Patroclo Antiloco morirà prima di Achille e anche Antiloco finirà nell'urna dove poi a sua volta finirà Achille l'urna dove sono i resti di Patroclo Patroclo Antiloco e Achille questa purtroppo è la guerra però questa guerra appunto ha portato al profondo profondissimo cambiamento di Achille e che sia un cambiamento enorme lo mostra in maniera secondo me sublime la conclusione del poema che non vi leggerò che vi spingo a rileggere ma vi racconto anche se certo ve la ricorderete è il momento in cui la conclusione sostanziale diciamo del poema è il momento in cui alla tenda di Achille arriva un vecchio ovvero sia Priamo il re di Troia a chiedere la restituzione del cadavere di suo figlio Ettore che è nella tenda di Achille beh è un momento pazzesco perché chiaramente si trovano di fronte i due più grandi nemici Priamo è il re della città che ha portato Achille in guerra e quindi odiatissimo padre dell'uomo che gli ha ucciso Patroclo dopo Ettore è Priamo il peggior nemico di Achille e Achille per Priamo è il peggior nemico perché è l'uomo il più forte degli Achei e è quello che gli ha ucciso il più forte dei suoi figli l'eroico Ettore quindi insomma sono di fronte i due uomini che più in quel momento si odiano eppure quello che ci racconta Omero non è l'odio ma è qualcosa di altro qualcosa appunto di sublime perché Achille mentre guarda questo vecchio che ha avuto il coraggio di sfidare i nemici per arrivare di notte alla porta della sua tenda non vede il nemico ma vede un vecchio che ha perso il figlio ovvero sia un uomo che soffre il dolore più forte che può soffrire un essere umano e in quel dolore lui immagina e proietta il dolore che soffrirà suo padre Peleo perché lui sa che molto probabilmente non tornerà a casa e che suo padre dovrà soffrire il dolore che lui sta vedendo lì nel vecchio che ha di fronte all'ingresso della tenda e quindi non vede il nemico ma vede un padre un padre che soffre il peggior dolore vede suo padre che soffrirà il più grande dolore e a sua volta Priamo non vede il ragazzo che gli ha ucciso il figlio ma vede un giovane fortissimo che andrà alla morte a sua volta come alla morte è andato suo figlio Ettore vede in Achille paradossalmente forse suo figlio e quindi questi due uomini questo padre e questo figlio si avvicinano si abbracciano e piangono questo è insomma direi la grandezza dei poemi omerici ma la grandezza di quell'eroe che si è profondamente trasformato dalla dalla sua in quei 51 giorni che vengono raccontati dall'Iliade è cambiato è diventato un altro è diventato un uomo che capace di capire che ci sono solo padri e figli in questa in questa terra un filosofo sapiente chiamato Eraclito di Efeso quindi attuale Turchia sotto Smir Neismir scrisse che Polemos è padre di tutte le cose Eraclito detto lo scuro Polemos è padre di tutte le cose la guerra è padre è madre diciamo la guerra di tutte le cose genera trasformazioni la vita certo esiste perché esiste la morte ma è solo la guerra che può spingere a queste trasformazioni insomma non so i greci usando forse i paradossi che amavano e disprezzavano ci potrebbero dire che no non c'è bisogno propriamente della guerra però in questo caso sì c'è stato bisogno della guerra però è importante il seguito del frammento di Eraclito Polemos è padre di tutte le cose gli uni rende dei gli altri uomini gli uni schiavi gli altri liberi cambiamenti alcuni forse hanno la possibilità appunto di diventare liberi come è diventato libero Achille non c'è bisogno della guerra però in questo racconto noi scopriamo come la guerra accechi gli esseri umani però come anche il dolore a cui porta questa accecamento questa ebrezza possa spingere a una trasformazione e quindi a uomini che capiscano che siamo solo padri e figli grazie mille grazie grazie io non so se sono previste le domande come funzionano in questi incontri è il primo non lo so com'è ci sono è prevista la domanda no quindi se qualcuno vuole dubbi mi raccomando le domande migliori sono quelle stupide quelle intelligenti hanno sempre già la risposta quindi vabbè leggetelo così i dubbi poi comunque vengono però ecco la cosa importante è leggere Omero è finita che gliela dà la cavalla sì sì gliela dà la cavalla capisce che è giusto così però dopo succede qualcos'altro perché viene fuori spunta Menelao che è stato quello che antilogo ha fregato perché antilogo vabbè va letto comunque diciamo che usa una grande abilità per far sì che questi cavalli che ha pessimi gli possano concedere un premio e quindi è molto abile però è anche un po' fregarolo ecco quindi fa qualcosa con Menelao che non doveva fare allora Menelao se la prende terribilmente dice hai fatto una mossa che nessun giudice qui di gara ha potuto vedere se sei un uomo ammettilo perché non si fa così insomma Menelao diventa un furibondo come tutti questi si incavola nome delle bestie e antilogo gli dice c'hai ragione io ti adoro ti adoro Menelao Menelao tu sei un mio grande quindi no hai ragione perdono sbagliato non voglio più niente allora Menelao gli dice no va bene visto che fai così sei giovane bravo che l'hai ammesso è molto bella una gara dei carri è molto molto bella concludere non concludo però ho fatto la domanda stupida perché stavo ancora piangendo della scena dei padri e del figlio che trasforma anche noi di fronte a questa idea astratta che abbiamo della guerra e quindi credo che questo racconto come insomma come è stato fatto e come ce l'ha tirato fuori da noi stessi sia stato meraviglioso la ringrazio la ringrazio tanto credo che l'applauso che c'è stato prima lo abbia dimostrato era caloroso e significativo noi non stiamo cercando di capire la guerra di adesso non l'abbiamo nemmeno accennata stiamo cercando di capire noi stessi di fronte a questo generale disastro che ci portiamo dentro grazie grazie a voi grazie mille buona serata grazie grazie grazie